Dobbiamo lavorare sui grandi settori e la cosa che mi fa piacere è che ci è stato riconosciuto in Europa come progetto pilota, quello della depurazione. Quindi particolare attenzione alla Campania verde, è uno dei temi dell'Europa, Campania verde e innovativa. Sapete che in Campania, al di là dei grandi problemi che non dobbiamo nascondere, siamo la regione più verde d'Italia. Vuol dire che siamo la regione con le aree parco più ampie, più protette, ettari e ettari di aria protetta e questo è il valore straordinario della nostra regione che ha potenzialità incredibili ma deve recuperare come ha recuperato credibilità. Abbiamo un grande progetto che riguarda la depurazione dell'ambiente, che riguarda sicuramente terra dei fuochi. Io vorrei su questo aspetto ricordare un problema che è un grande problema che solo noi abbiamo affrontato dall'inizio, accettando anche le critiche, anche lo scontro, perché la preoccupazione dei cittadini è una preoccupazione vera, reale in quelle zone. Abbiamo anche però difeso la Campania, abbiamo detto che la Campania è il prodotto agricolo più buono e mi permetto di dire oggi più sano e più controllato. Compriamo Campano, mangiamo Campano, mangiamo i nostri prodotti, la dieta mediterranea.